Ferrovie dello Stato cerca locatari cui affidare la gestione dei bar delle stazioni di Sant'Agata Militello e Milazzo. I bandi sono stati pubblicati nel portale vendite di Fer Servizi, divisione per la gestione immobiliare dell'azienda ferroviaria. A Sant'Agata Militello da circa due anni il bar è chiuso e i locali sono rimasti in disuso. Una vera e propria mazzata per tutti i viaggiatori in un nodo cruciale del traffico ferroviario sulla Messina Palermo, considerato che già da tempo addietro alla stazione ferroviaria sant'Agatese erano stati chiusi persino ai bagni. Il bando prevede la locazione dell'immobile di 106 metri quadri da adibire ad attività di caffè e ristorazione con facoltà di istituire una rivendita di giornali e tabacchi. La convenzione prevede una locazione della durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, ad un canone annuo posto a base dell'offerta di 8.800 euro oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 29 settembre, anche previo sopralluogo da concordare con i referenti della sede di Palermo di Fair Servizi. 4.860 euro più IVA, invece, il canone annuo posto a base di gara per la locazione del bar all'interno della stazione di Milazzo. Anche in questo caso la struttura di circa 98 metri quadri è chiusa da parecchi anni. Identiche le condizioni di locazione con contratto di sei anni più sei rinnovabili ed il rispetto di precise clausole per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinarie e straordinarie, ad eccezione delle parti strutturali, riparazioni e adeguamenti che saranno a carico del locatario stesso. Il termine, per la presentazione delle offerte per il bar della stazione di Milazzo, è fissato per le ore 12 del 26 settembre, anche in questo caso previo sopralluogo.